Con decreto del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2021, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati determinati comuni a cui spetta il contributo da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Gli investimenti riguardano la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dell'ente. Per l'anno 2021 i contributi ammontano complessivamente a 1 miliardo e 850 milioni di euro. Tra i beneficiari c'è anche il Comune di Perdifumo. Finalmente la strada che da Batolla porta sulla strada del mare sarà messa in sicurezza, fanno sapere dall'ente. Il Ministero dell'Interno infatti ha accordato al Comune di Perdifumo un finanziamento di un milione di euro destinato alla riqualificazione della strada limiti. Tale intervento garantirà il risanamento idrogeologico dell'intera area e la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione dell'intero tracciato viario dei ponti e la canalizzazione delle acque meteoriche.